ed eccoci qua ben ritrovati con una nuova puntata di caffeina oggi con noi sabrina tasselli benvenuta ciao buonasera a tutti come stai tutto a posto grazie l'entusiasmo è ancora vivo insomma un lungo periodo di stop come si ritorna in campo in vista anche di quelli che sono i prossimi impegni con ancora più voglia di prima perché comunque allenarsi si è carino ma giocare molto di più è certo tra l'altro tu ex juve conosci molte delle rappresentanti della nazionale che ha fatto anche appassionare a quello che è il movimento femminile in italia e quindi con i mondiali però a breve c'è anche un europeo cosa pensi pensi che l'italia sia pronta pensi che possa fare la differenza ancora di più di quello che ha fatto in francia assolutamente il movimento è in crescita le squadre si stanno organizzando le ragazze sono ben disposte a lavorare e impegnarsi quindi sì mi aspetto un europeo non da protagonista in livello assoluto ma sicuramente faremo la nostra parte diciamo che anche tu la tua parte la stai facendo insomma sei arrivata protagonista ormai tra i pali del napoli calcio femminile e devo dire che stai portando anche fortuna perché probabilmente non è un caso che sei arrivata tu e diciamo stanno arrivando anche dei risultati positivi come stai vivendo questo tuo momento te l'aspettavi e quanto ancora vuoi dare di qui alla fine della stagione no vabbè guarda io prima di venire qua ho guardato scuriosate tutte le partite e devo dire che per quanto riguarda la prima parte del campionato c'è stata molta sfortuna quindi è stato un caso che sia arrivata io e sia girata cioè era comunque sarebbe dovuto succedere e quindi queste ultime giornate come come le vedi e come le affronterete ora arriva il milan che sulla carta è sicuramente un avversario importante e però il napoli ci deve credere no assolutamente queste sono le partite più importanti finora siamo riusciti a recuperare un po di punti ma il bello viene adesso perché quello che abbiamo fatto finora senza l'ultimo step sarebbe inutile tu si può dire polentona perché comunque sei un'emiliana ti trovi qui a napoli come stai vivendo comunque una realtà che ne parlavamo anche prima no è completamente diversa da reggio emilia no qui c'è il mare c'è caos la gente parla tanto c'è siamo ritardatari come ti stai trovando al sud vabbè ritardatari mi piace anche tu ah ok va bene quindi dei punti di contatto ci sono con la città assolutamente ho solo trovato molta differenza proprio nel caos che c'è persone in giro un numero incredibile di rumori di vita che magari insomma da noi su al nord un po più tranquilla un po più silenzioso e c'è da dire che comunque siamo in un periodo di restrizione proprio l'anima terrona che è rumorosa e si fa sentire e il tuo rapporto con il caffè con la pizza quindi insomma con tutto quello che è di contorno alla città di napoli com'è il caffè ci bevevo prima quindi a maggior ragione adesso ti trovi nel posto giusto ha influito nella scelta della squadra non così tanto però visto che ci siamo ha fatto il suo ho frequentato perfetto allora adesso noi concludiamo di solito con un aforisma legato al caffè però vogliamo chiudere in una maniera un po più particolare speciale visto che ci sei tu e la frase non la leggerò io cara Sabrina ma la leggerai tu e vogliamo anche la traduzione quindi perdonatemi ancora prima di iniziare si sbaglia un portier non c'è stampo un piede quindi se sbaglia il portiere cioè non ci salva nessun altro insomma quindi giusto per caricarti ulteriormente di responsabilità per la partita contro il Milan grazie Sabrina e noi ci vediamo per la prossima puntata di Caffeina ciao